Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti alla nostra recensione dello Huawei Honor 6, un top di gamma a soli 300€. Lo avevamo visto qualche giorno fa ed oggi finalmente possiamo proporvi la nostra recensione completa dell'ultimo Honor 6. Il dispositivo, concesso molto gentilmente dallo store di e-commerce SmartyLife.net, presenta dimensioni nella norma, ovvero abbiamo un display da 5 pollici con dimensioni di 139,8 x 69,7 x 7,5 mm di spessore. Il peso complessivo è di circa 130 grammi, batteria inclusa. Batteria inclusa in quanto, diciamo subito, che la batteria non è removibile. Quindi, nel caso in cui questa dovesse essere cambiata, è assolutamente necessario rivolgersi ad uno store o comunque ad un centro di assistenza, in quanto non potrete farlo in autonomia. Caratteristica principale di questo dispositivo è naturalmente una forma e un aspetto estetico che richiama in un certo senso l'iPhone. Vedete che è quasi molto squadrato, con piccoli angoli arrotondati, ed in particolare nella parte anteriore, di color bianca, con cornici sui lati molto piccoli, troviamo il sensore, l'altoparlante e la fotocamera frontale. Non troviamo nessun tasto fisico, anteriormente, naturalmente, e gli unici sono stati posizionati on screen. Poi, il bordo è completamente metallo, metallo in cui, nella parte destra, troviamo innanzitutto, come vedete, un piccolo slot, nel quale è possibile installare le due SIM, in particolare due micro SIM e la micro SD, per espandere la memoria interna. Stato posizionati anche due pulsanti, accessione e spegnimento e il volume, dall'altra parte niente, e superiormente jack da 3.5 mm per le cuffie, microfono e, posteriormente, invece, la micro USB. Vedete, come avete potuto tranquillamente notare voi stessi, che i lati in metallo sono essenzialmente tre. Un lato, infatti, è stato scelto dall'azienda di lasciare in plastica. In questo modo, quindi, si offre una certa continuità con la parte posteriore del device. In particolare, infatti, è possibile notare la cover posteriore è completamente in plastica, in particolare rivessita da una sorta di piccolo vetro, diciamo, con scritta Honor centrale, fotocamera e flash LED e altoparlante. Naturalmente, la cover posteriore è praticamente in plastica, con una piccola patina, diciamo, che la ricopre, che dà una certa lucidità e solidità, con scritta Honor centrale, fotocamera flash LED e altoparlante. Il dispositivo, quindi, da un punto di vista puramente estetico, è molto carino, anche se essenzialmente non introduce nulla di nuovo rispetto a quanto visto in precedenza. Passiamo, invece, alle caratteristiche tecniche che forse interessano la maggior parte di voi. Il display, abbiamo detto, essere da 5 pollici, 5 pollici in particolare con una buona risoluzione, 1080x1920 pixel, 445 ppi, display, abbiamo detto, IPS LCD e 16 milioni di colori. Quindi, possiamo dire che il display veramente ci ha entusiasmato, nel senso che la qualità dei colori, dei dettagli, di tutto quello che questo display è in grado di offrire, è veramente, non di alto, di altissimo livello, in quanto comunque ci troviamo di fronte ad un display che non ha nulla da invidiare, anche ai più blasonati Galaxy S5 o Nexus 6 o quant'altro. In quanto comunque i colori, come abbiamo detto, sono molto vivi, i dettagli estremamente definiti, e quindi porta ad una risoluzione, ad una complessiva unione di dettagli e colori veramente eccezionali. Il processore, forse, è quello che porta il dispositivo ad essere minormente considerato dalla moltitudine degli utenti, in quanto l'azienda, nell'Honor 6 e nella maggior parte degli Honor, ha voluto affondare le mani dentro le proprie tasche, ovvero ha cercato di utilizzare i propri processori. In particolare, l'Honor 6 intera il processore Octa-Core High Silicon Curing 920, composto in particolare da un Quad-Core a 1.7 GHz e un Quad-Core a 1.3 GHz. Questi è accompagnato da una GPU Mali T628 MP4. Quindi, il dispositivo, come potete vedere voi stessi da qui, presenta questo processore, che nella maggior parte dei casi è sconosciuto, in quanto comunque è un processore che non abbiamo ancora mai visto su altri dispositivi, quindi non è un MediaTek, un Qualcomm o quant'altro, ma che allo stesso tempo avviando AnTuTu riesce a raggiungere 42.765 punti, un punteggio veramente elevato e molto, ma molto interessante. Lo stesso discorso, infatti, vale nell'esecuzione di altri, di particolari titoli, come ad esempio noi abbiamo scaricato Asphalt 8, che a nostro dire è il top, ovvero non è il miglior gioco del Play Store, ma è comunque quel gioco che ci permette di capire quanto il processore possa essere performante. Quindi, noi abbiamo già fatto qualche gara in passato, comunque provando ad avviarlo, vediamo innanzitutto che la velocità di esecuzione è molto buona, il caricamento è veramente rapido, quindi non avete difficoltà nel caricare l'applicazione o quant'altro. In particolare, la prima cosa che notiamo sono i colori. I colori del display sono veramente belli, i dettagli molto, ma molto, ma molto definiti, quindi la qualità del display veramente si fa sentire anche e soprattutto nell'esecuzione di titoli di questo calibro. Parallelamente, invece, considerando la mera e pura esperienza utente, vediamo che è possibile giocare tranquillamente senza particolari problemi, non abbiamo lag o particolari scatti dell'applicazione in questo gioco, quindi possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti del titolo in questione. In particolare, come vedete, è possibile utilizzare il nostro piccolo Honor 6, perché nonostante tutto è un display da 5 pollici, non è possibile definirlo come phablet o quant'altro, e, dicevo, possiamo utilizzarlo tranquillamente senza particolari patemi o problemi di sorta. Per questo motivo, possiamo concludere che questo terminale può tranquillamente essere utilizzato con qualsiasi gioco e potrete giocarci o anche acquistarlo per eventualmente voler giocare con i vostri amici o giocare agli ultimi titoli presenti sul Play Store. Interessante è il menu a scomparsa, come vedete, che in alcuni casi potrebbe portarvi in difficoltà, ma basta fare così o comunque premere qui ed automaticamente tornerà alla schermata principale. Altra caratteristica importante di questo terminale è sicuramente la fotocamera. Fotocamera, in particolare, troviamo una fotocamera posteriore molto performante, in particolare una fotocamera posteriore da 13 megapixel con scatti a 4128x3096 pixel e una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Ricordiamo che fotocamera posteriore è con flash LED, fotocamera anteriore naturalmente no. Come al solito proviamo a muovere la fotocamera e vedere essenzialmente se si trascina. Vedete che il display non si trascina anche in modalità bellezza, quindi con una qualità maggiore e da questo già ci permette di capire che la qualità della fotocamera è molto buona. Prima di farvi vedere qualche esempio, vediamo quali sono fondamentalmente le modalità di questa applicazione fotocamera. Vediamo, qua sopra possibilità di attivare la fotocamera anteriore, flash LED e quant'altro. Premendo in questo modo si avviano le altre modalità in modo da potervi accedere rapidamente. Se schiacciate impostazioni è possibile impostare tutte le varie impostazioni a proprio piacimento con il tipo di scatto e la qualità dello stesso. Naturalmente acquisisce sorrisi, tracking oggetto, eccetera, eccetera, in modo da poter personalizzare anche gli scatti. Se schiacciate qui invece si avvia la galleria e vediamo dopo. Qua invece potete, livello bellezza per una maggiore qualità degli scatti. Qui foto e video invece per scegliere tra se scattare un'istantanea o realizzare un filmato. In questo caso invece potete applicare determinati filtri in modo da rendere le immagini molto più carine e diverse dal solito. Altro non abbiamo da dire. Dobbiamo solamente considerare che siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dalla qualità degli scatti e dalla ripresa video di questo terminale. In particolare abbiamo notato che in condizioni di grande luminosità, come può essere all'aperto, il terminale riesce a scattare ottime istantanee. Tuttavia, invece, in condizioni di scarse luminosità, come può essere un interno o comunque di un'abitazione, abbiamo notato delle piccole mancanze. In particolare, come potete vedere e come vedete poi nella recensione testuale sul nostro sito, se ci troviamo in casa e abbiamo uno sfondo scuro su un soggetto chiaro, il flash non riesce a svolgere perfettamente il proprio lavoro e quindi tende a scurire notevolmente tutta l'istantanea. In altre condizioni, invece, vedete che il flash flash o senza flash quasi risulta meglio con il flash LED piuttosto che senza, cosa che in altre occasioni, quindi in altri dispositivi, non accade. Quindi, parlando di fotocamera, il componente installato è sicuramente ottimo. Sicuramente ottimo, ma con una piccola mancanza in condizioni di scarsa luminosità con fondo scuro. Parliamo, invece, della parte fondamentale, ovvero il software. Dunque, l'Honor 6 è un dispositivo che ufficialmente non è commercializzato in Italia. Quindi, per ottenerlo, dobbiamo naturalmente ordinarlo e farcelo importare dall'Oriente. Per questo motivo, quindi, si potrebbero avere delle difficoltà sui software installati. La maggior parte degli importatori, quindi di tutti coloro che importano questo terminale, porta ad installare determinate applicazioni in modo che possa essere già pronto per un'esperienza utente italiana. Questa cosa, quindi, potrebbe portarvi a piccole difficoltà naturalmente se colui che vi vende il terminale non la fa. E quindi, come nel nostro caso, vedete che è possibile trovare determinate applicazioni, come ad esempio in questo caso Social Networks, tutte in inglese, e volevo dire in lingua cinese, determinate impostazioni utente, tutte in lingua cinese, e quindi sarà vostro compito disinstallarle con non poche difficoltà e allo stesso tempo, quindi, ad esempio, disattivare l'app center dell'azienda, sempre in lingua cinese, o eventualmente installare il Google Play Store da questo App Store. Cosa che, naturalmente, non è un'operazione impossibile da fare, ma potrebbe portarvi a non poche difficoltà. Nel nostro caso, comunque, ci siamo riusciti, siamo riusciti ad installare il Play Store e, con alcune difficoltà, comunque, siamo riusciti ad installare tutte le applicazioni del caso. Ricordate che, comunque, di default, non è installata alcuna applicazione di Google. Vediamo rapidamente il software. Software è sistema operativo Android con una particolare personalizzazione, ovvero abbiamo le MUI 3.0. Questa cos'è? È una personalizzazione software dell'azienda che porta, quindi, ad avere un terminale leggermente diverso. Vedete che la versione di Android è 4.4.2, mentre MUI 3.0. Infatti, a prima vista, vi appare come un dispositivo diverso dal solito. Ad esempio, vedete che il centro notifiche è diverso, le scorciatoie sono leggermente diverse, trovate possibilità di navigare in 4G, eccetera, eccetera, anche se, comunque, i pulsanti sono sempre gli stessi, le icone sono leggermente diverse e quant'altro. Resta che, comunque, per utilizzarlo è molto semplice, sia piccole differenze anche nelle impostazioni, ma dobbiamo ammettere che è molto semplice da utilizzare. La navigazione nei menu risulta essere buona e di preinstallate, nonostante la lingua cinese o giapponese, dato che non abbiamo queste grandi conoscenze, troviamo molto interessanti, ad esempio, Cloud Plus, ovvero per sincronizzare il proprio account e condividere i dati nel cloud, Wallet, che purtroppo è in lingua cinese, ma volendo si può cambiare la lingua e ci permette di installare determinate widget e quant'altro per il nostro terminale. Poi, Buddy Help, che è un software proprietario dell'azienda che ci permette di condividere lo schermo o quant'altro con gli amici per aiutarci a vicenda. Naturalmente, anche altri amici devono avere lo stesso terminale o comunque un terminale della stessa azienda o della stessa serie. Kingsoft Office è la suite per creare documenti, strumenti, invece troviamo Specchio, che è il prodotto che ci permette di attivare, vedete, la fotocamera frontale e quindi utilizzarla come un vero e proprio specchio. Sempre strumenti, poi è possibile trovare lenti di interdimento che funziona al contrario, registratore, calcolatrice, controller, high voice e tutto quanto ci permette di controllare le varie sim o attivare la driving mode che è quella modalità da utilizzare in macchina ricordandoci che comunque il terminale non si può utilizzare in macchina ma per attivare il navigatore, chiamare, attivare la musica o le impostazioni basta premere un solo tasto. Altre caratteristiche fondamentali non troviamo. Ad esempio, qua per uscire basta premere la X e quindi torniamo alle impostazioni. In impostazioni, invece, cosa vediamo di particolare? Le impostazioni sono molto simili a quelle che abbiamo sempre visto. In particolare, degna di nota, troviamo alcune gestures molto interessanti. Ad esempio, qui abbiamo capovolgi per silenzare la chiamata solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria alzare verso l'orecchio per rispondere o effettuare chiamate scuotere per riorganizzare o inclinare per spostare le icone. Vi facciamo vedere molto semplicemente. L'ultima funzione, incline, basta tenere premuto incline il dispositivo ed automaticamente questo si sposterà nella schermata a fianco in modo da poter spostare l'icona. Viceversa, invece, andando tornando ad esempio nelle impostazioni e nel controllo del movimento qui troviamo scuoti per riorganizzare in modo da scuotere il terminale per riorganizzare tutte le icone. Molto interessante è anche Touch Plus. Touch Plus è quella modalità che ci permette di installare una pellicola con tre icone dei tasti di navigazione posti qui e quindi utilizzare nuove scorciatoie, nuove aree di tocco e ampliare ancora di più la possibilità di utilizzo di questo terminale. Quindi, come vedete, ha moltissime impostazioni con la piccola difficoltà naturalmente della lingua cinese che se il produttore non ha già provveduto potrebbe essere molto negativa e difficile da superare. Tornando invece a parlare di caratteristiche tecniche troviamo una memoria interna che può essere da 16 o da 32 GB. Nel nostro caso abbiamo da 16 GB con effettivamente 11.44 GB ed 8.34 GB da utilizzare. Tolto 2 GB circa per le varie applicazioni abbiamo all'incirca 10 GB da utilizzare per installare applicazioni e quant'altro. Naturalmente è possibile installare una scheda SD fino a 64 GB di memoria interna per espandere ancora di più la memoria a disposizione. Il terminale, abbiamo visto, può essere venduto anche nella versione a 32 GB con alcune differenze. Infatti è presente anche il chip NFC nella versione a 32 GB o comunque ha delle piccole migliorie che ci permettono di utilizzarlo nel miglior modo possibile. Ultima caratteristica interessante è la batteria. Batteria interna da 3100 mAh abbiamo visto essere non rimovibile che porta ad un utilizzo complessivo ad una durata di circa due giorni. Quindi, ricaricando il terminale alla mattina potrete usarlo fino alla sera e dal giorno dopo senza mai doverlo ricaricare. Detto questo, di altre caratteristiche tecniche oltre che naturalmente l'essere dual sim che abbiamo già visto troviamo il sistema operativo abbiamo visto Android 4.4.2 e concludono le specifiche tecniche ben 3 GB di RAM e la connettività base quindi Bluetooth, micro USB, Wi-Fi e GPS. In ultima analisi possiamo mostrarvi il funzionamento dell'altoparlante in modo da poter vedere da vicino quanto questo altoparlante posteriore sia in grado di funzionare. Ad esempio, riavviamo Asphalt 8 e sentiamo, mettendo il volume mettendo il volume al massimo sentiamo effettivamente quale siga e qual è la qualità audio. sentite che mettendo il volume al massimo la parte posteriore naturalmente vibra leggermente, ma molto poco e il suono non viene distorto. Quindi possiamo dire che la qualità audio è anch'essa molto, ma molto buona. Ultime analisi su altre applicazioni il Gamebox è quell'applicazione dal quale è possibile scaricare applicazioni, giochi e quant'altro e verificare gli update o eventualmente scaricare altri giochi troviamo naturalmente il calendario molto semplice questo è il dialer questo invece è il menu con la tastiera come abbiamo visto nella nostra recensione testuale sia in lingua cinese, giapponesi che in lingua inglese, italiano o comunque, diciamo con un alfabeto più simile al nostro. Detto questo, non mi resta che rimandarvi ad ulteriori informazioni sulla nostra recensione testuale se avete dubbi o quant'altro lasciate un commento al video o alla recensione testuale in modo da potervi aiutare nei vostri dubbi Ultime considerazioni cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'Honor 6 è sicuramente un ottimo terminale ottimo terminale con grandi caratteristiche tecniche fotocamera e display ma che allo stesso tempo presenta un processore che è sì performante ma essenzialmente non troppo o meglio, comunque ci saremmo aspettati qualcosa di più Peraltro, come detto vedete la nostra recensione completa sul sito tecnoandroid.it Grazie